Tasi, Tares, Imu. Ormai non passa giorno che i bilanci delle famiglie vengano duramente messi alla prova dalle richieste di pagamento in arrivo da Stato e Comuni. E se un tempo a rispondere faticavano solamente i ceti più bassi, ora a stare al passo con le imposte stentano in molti, anche i componenti del ceto medio. Proprio a loro dunque ha pensato di rivolgersi l'amministrazione bassanese con un apposito bando. Si rivolge a tutti i cittadini e ai nuclei familiari che abbiano un ISEE del 2013 che va dai 3.000 ai 20.000 euro. Il cittadino farà semplicemente domanda scaricando il bando dal sito del Comune o recandosi ai servizi sociali a richiederlo. Dovrà essere presentata la domanda entro il 10 di novembre all'ufficio protocollo e indicare nella domanda se si chiede un contributo per la Tasi o per la Tari. In sostanza il bando è mirato a ridurre l'incidenza delle tasse comunali nelle spese quotidiane delle famiglie. Ma sia chiaro, a chi risulterà avere i requisiti, il Comune darà un contributo, il minimo sarà di 30 euro, solo dopo che Tasi e Tares risulteranno pagate. A tal proposito è necessario portare la ricevuta del pagamento effettuato all'ufficio Famiglia del Comune entro le 12.30 del 19 dicembre per partecipare al bando. Diversa la situazione per quanti famiglie o singoli cittadini non siano in grado di pagare le imposte. I servizi sociali sono sempre aperti, siamo pronti ad accogliere le persone in difficoltà e cercare di fare il massimo per aiutarli e sostenerli.